240.000 cittadini napoletani coinvolti nel porta a porta con il 70% di percentuale media che nell'anno 2011 ha evitato lo smaltimento in discarica di circa 95.000 tonnellate di rifiuti. Questi i risultati dell'impegno dell'amministrazione comunale e dell'Asia nel campo della raccolta differenziata. Lo hanno reso noto il vice sindaco Tommaso Sodano e il presidente di Asia Raffaele del Giudice nel corso di una conferenza stampa durante la quale è stato anche illustrato il nuovo modello di raccolta applicato a Scampia e Posillipo. È un modello ideato dalle nostre direzioni, è un modello che punta all'efficienza, è un modello che vede la squadra Asia che sta studiando la città, la sta sezionando e sta portando avanti un obiettivo di efficacia, di migliorare le performanze di raccolta differenziata e scusate se è poco anche di economizzare. Questo va tutto merito delle direzioni aziendali e dei nostri uomini che sono impegnati sulla strada. L'incontro è stato anche l'occasione per comunicare la nuova campagna di sensibilizzazione ambientale Una campana tira l'altra, che a partire dal 3 marzo e per i successivi quattro fine settimana vedrà Asia, comune di Napoli da associazionismo attivo, la rete delle quattro giornate, impegnati in iniziative finalizzate a rafforzare la reciproca collaborazione con la cittadinanza. L'obiettivo sarà come sempre quello di generare un cambiamento collettivo basato sull'introduzione di buone abitudini nei comportamenti quotidiani dei cittadini. L'alleanza con i cittadini è il risultato migliore che si può raggiungere in termini di quantità e di qualità. I cittadini fino ad oggi stanno rispondendo, è evidente che a questo poi deve contribuire la organizzazione dell'azienda e noi siamo molto soddisfatti di questo nuovo corso della Asia perché sta complessivamente migliorando il servizio nella città. E' questo poi bisogno che anche le altre istituzioni con l'impiantistica di cui ha bisogno la Regione Campania rispondano per evitare le sofferenze perché quando c'è sofferenza si fanno passi indietro pericolosi. Noi non vorremmo tornare alle immagini devastanti dal punto di vista della qualità della vita dei cittadini, dei cumuli di immondizie per la strada. Quindi per fare ciò c'è bisogno che le campagne di educazione e di informazione continuino.